Ciao a tutti dal vostro caro Max Random Ragazzi eccoci qui nel secondo episodio della Vanilla Che ormai non è più chiamata Vanilla Perché questa adesso ho deciso il nome Che mi avete consigliato nei commenti Ed è anche quello che ho preferito di più Ovvero Random Craft Cioè ragazzi quanto è figo il nome Random Craft Cioè è bello Cioè è bellissimo Quindi ragazzi la chiamerò Random Craft Allora come potete vedere nell'inventario ho abbastanza roba Perché ho così tanta roba Perché oggi ragazzi andremo a costruire la nostra casa La nostra casa bellissima Cercherò di farla enorme questa casa Perché ragazzi dobbiamo fare una casa? Facciamola per bene Cioè va bene Quindi iniziamo Iniziamo a fare la casa Io ho pensato di farla Il legno Perché ragazzi il legno È praticamente il mio materiale preferito per le case Adesso se mi butto qui giù Non è che poi Oh svegna Ok Quasi metà vita mi sono tolto Però dettagli Cioè ma che cazzo Cioè ma per farvi capire Ma che cosa cambia Però sono stupido Perché adesso Ho costruito la casa Tipo mille metri Da dove si trovava la casa Quindi per prendere la roba Dovrò farmi chilometri Ok Allora Prendiamo questo ferro Ok perfetto Poi facciamoci una crafting table Tanto il legno ce l'abbiamo Facciamoci una crafting table Piazziamola qui a terra Facciamoci un bucket Ok Posiamo questo ferro Perfetto Prendiamo Prendiamo l'acqua Dal pozzo L'acqua Quello che è Cioè no dal pozzo Sì vabbè Dal laghetto Prendiamo l'acqua Così quando ci dobbiamo buttare Faccio la water MLG E siamo tutti più felici Così non mi faccio neanche troppo male Allora Così come altezza Dovrebbe andar bene Voi che dite Sì dai Potrebbe andar più che bene Come altezza Allora Più o meno Vediamo Se sono pari o dispari Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici Facciamola di quattordici Perché raga Deve essere una casa Davvero Enorme Deve essere big Partendo da questa Andiamo Avanti di Quattordici Come al solito Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici Alziamo qua Alziamo qui Il mega muro Raga ma che dite Se faccio un timelapse È meglio Ma si dai Facciamo il timelapse Che ti devo dire Facciamo il timelapse Raga Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E mamma mia ragazzi, mamma mia. Sta venendo abbastanza imponente come costruzione. Adesso direi di mettere questo qua, poi questo qua, così da poi far vedere da fuori una cosa del genere. Così se tu guardi là, dici un bello e anche con pregio lì dentro, wow, fantastico. Ok, ok, allora, ma non lo so perché sto registrando da un bel po', ma non so se la memoria del mio PC basta perché mi mancavano pochi giga e poi, addios. Vabbè dai, c'è 11 giga, dovrei farcela, credo. Vabbè comunque ragazzi, fatemi sapere se volete altri timelapse oppure volete altri timelapse perché basta perché c'è per costruire soltanto questa facciata ci ho messo gli anni. Immaginate che cosa, quanto ci metto per costruire il resto della casa. Mamma mia ragazzi, non oso immaginare, non oso immaginare. Ok, l'entrata è abbastanza figa, posso dire questo, posso dire che l'entrata è abbastanza figa perché dai, è bella, cioè non puoi dire che è brutta. Allora, facciamo un altro piano di questo portone, facciamone un altro, ok, così, 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 così. E poi le scaline, non so se mi bastano, sì, dovrebbero bastarmi. Sì, le scale mi bastano, perfetto. L'entrata è entrata, ditemi se vi piace nei commenti. Ok, allora, che dite, inizio a fare anche il muro? Eh sì, iniziamo a fare pure il muro. Più a terra, eh. Sta cobblestone non è che mi faccia impazzire così tanto, eh. Quindi, sapete cosa posso fare? Posso creare le slab di questo. Sono belline. No, sbagliato. Non dovevo farle di queste le slab. Si può trasformare? Oddio. Non lo sapevo che si craftava così. Wow. Ho scoperto una cosa nuova. Fantastico, ragazzi, fantastico. Rampiamo un attimo qui e vediamo come viene. Però è un materiale abbastanza costoso. Cioè, costa abbastanza stone, voglio dire. Ma ragazzi, vi direi, è bello. Cioè, l'entrata solo però dovrò fare così. Perché poi, tutta la casa con questo materiale, primo, stona un pochino. Secondo, poi, occupa troppa roba. Ma va bene. Allora, adesso devo andarmi a fare della stone. Quindi ci vediamo dopo. Ok, eccomi qua. Perfetto, perfetto, perfetto. Andiamo qui, craftiamo le slab. Oddio, quante robe. Tanto che ne ho, mamma mia. Non mi entrano nell'inventario. Aiuto, non mi entra la roba nell'inventario. Non ce la faccio più. Sono pieno, sono pieno. Ok, allora. Queste slab dovrebbero essere abbastanza fighe, dai. Sono fighe per fare il pavimento. Cioè, queste slab, amo queste slab io. Le amo. Guarda, ti direi, è bellino. A pensare che qua, poi, dovrebbe essere tutto il mega pavimento di tutta questa mega casa. Però, raga, è bellino. Direi che il video di oggi può anche finire qui. Se vi è piaciuto, lasciate un bellissimo pollice in su. Ho iniziato a costruire la casa. Lo so, ragazzi, ho fatto poco in questo episodio. Però, per procurarmi tutti questi materiali, ci ho messo davvero molto. Ma molto. Quindi, il video di oggi può anche finire qui. Se vi è piaciuto, lasciate tantissimi pollice in su. Ditemi nei commenti se vi piace così come inizia. Anche se poi dovrò modificarla, perché questo non è che mi piace moltissimo. Però, per ora, va bene così. Fatemelo sapere con un bellissimo pollice in su. Iscrivetevi al canale, commento e se lo vedete. Noi ci vediamo al prossimo video. E ciao, ciao. Noi ci vediamo al prossimo video. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.